Ciao, è capitato anche a te di sentire pareri e discordi sull'utilità o meno di studiare con il metronomo? Allora resta connesso perché ora ti spiegherò qual è il mio punto di vista su questo argomento. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e con questo video vorrei condividere con te questa mia considerazione. Io ho sempre usato il metronomo o batterie elettroniche e sequencer dedicati perché sono sempre stato convinto che mi potessero essere utili in diversi ambiti. Ti faccio qualche esempio. Quando studi uno strumento musicale hai una certa quantità di esercizi diversi da praticare e assimilare. Diciamo che nella tua sessione di strumento c'è una sostanziosa parte dedicata alle acquisizioni di nuove tecniche o a quella dedicata al consolidamento di tecniche che già conosci e una buona fetta dedicata allo sviluppo del controllo e della velocità di queste tecniche. Quindi il metronomo è uno strumento fondamentale per la misurazione dei tuoi progressi nella fase di studio. Ti ricordi che in un vecchio video ti ho spiegato anche che tutto ciò che è misurabile è migliorabile? Infatti tenendo sempre aggiornate le tabelle dei tuoi esercizi avrai una traccia dei tuoi miglioramenti in campo tecnico. Con questo sistema non rischierai di studiare a velocità dettate da fattori come il tuo stato d'animo, il clima o altre influenze esterne che rischieranno di farti involvere invece che evolvere. Un altro caso potrebbe essere che se stai acquisendo un repertorio, quindi stai analizzando i brani, dovrai seguirli a velocità minori rispetto a quelle originali. Studiare un brano molto lentamente ti farà analizzare tutti gli aspetti tecnici, esecutivi ed espressivi del brano. Ne potrai cogliere ogni sfumatura. In un brano il tempo è fondamentale. Oppure in un'altra situazione come potrebbe essere quella della performance live avrai considerato l'uso del metronomo come valido aiuto per darti almeno la velocità iniziale corretta di ogni singola canzone. E poi è inutile che ti dica di quanti e quali occasioni avrai incontrato sicuramente dove sul palco ci sono computer che suonano sequenze contenenti strumenti e suoni impossibili da riprodurre live. Ti faccio notare che questo sistema viene usato a qualsiasi livello, dalla cover band più scarsa ai concerti pop delle star internazionali più famose. Anzi, più sali e più questo uso è frequente e massiccio. Quindi in questo caso chi conduce è proprio la click track e non tu. E per concludere, se per caso ti è capitato di andare a registrare in studio, la prima domanda che ti fanno è che tipo di click vuoi? Che suoni vuoi in cuffia per il click? Perché non c'è proprio discussione. Il click in studio c'è 99,9999% dei casi. Perciò il mio consiglio è quello di farci amicizia fin da subito. Non è un tuo nemico. Non considerarlo un nemico. E in più, se la tua carriera è orientata verso la musica pop, il click sarà un tuo compagno di viaggio. Sempre. Però se ti muovi in ambienti diversi dalla musica pop, come potrebbe essere il jazz o la classica, il click viene visto come proprio un killer dell'espressività. Ma in ogni caso, anche le persone che frequentano questo tipo di ambiente ti consiglieranno di studiare sempre con un metronomo. C'è presente quei metronomi di legno con la lancetta che oscilla, che sta sempre sopra ogni pianoforte di ogni pianista classico? Magari è pieno di polvere e non funziona nemmeno? Non lo so. Però ce l'hanno. Quindi vuol dire che ne devono fare uso. O perlomeno dovrebbero. O perlomeno dovrebbero.